Ciao a tutti, questo è un nuovo video di presentazione al canale per tutti i nuovi iscritti ma anche per coloro che mi seguono da tempo. Nelle lezioni precedenti noi abbiamo affrontato un percorso interessante, affascinante, siamo partiti dal primo rinascimento e a giorni concluderemo il percorso con gli ultimi artisti che sono Pietro Perugino e Bramante, quindi il programma era da rinascimento a Bramante attraverso i capolavori dell'arte quattrocentesca. Siamo partiti da Firenze e poi abbiamo cercato di capire i significati nascosti della primavera del Botticelli, abbiamo visto come cambia lo stile pittorico attraverso quelle gradazioni e quelle sfumature della pittura tonale di Giovanni Bellini a Venezia, abbiamo visto il rinascimento a Mantua con il Mantegna, con la Camera degli Sposi, quella resa illusionistica, quegli scorci prospettici, azzardati che in realtà Mantegna pone un po' le premesse di quella che sarà la grande pittura barocca. Dunque abbiamo analizzato quell'età legata a Lorenzo il Magnifico, ricordiamoci il mecenate per eccellenza, il protettore degli artisti, colui che appunto ospitò nella sua corte Botticelli, Donatello, Michelangelo, Paolo Uccello, ma la storia fiorentina in realtà fu segnata da eventi importanti perché ci furono lotte dinastiche per il potere e quindi diciamo che le premesse dell'umanesimo, quella cultura antropocentrica che vedeva l'uomo al centro dell'universo come essere supremo, tipiche appunto dell'età di Lorenzo il Magnifico, poi tramonteranno. E ci saranno degli eventi che cambieranno il corso della storia, sicuramente la congiura dei Pazzi, che fu architettata dal nipote del Papa di Sisto IV, una congiura contro il governo Medicio, e in realtà si voleva sconfiggere il governo dei Medici ed affermare il potere papale. Questo è importante perché ci sarà un grande cambiamento perché Firenze perderà quel ruolo di città protagonista e quindi Roma diventerà invece il centro dell'arte e quindi gli artisti, i pittori fiorentini saranno inviati da Lorenzo il Magnifico a Roma ad affrescare la Cappella Sistina e quindi ci fu un accordo artistico diplomatico tra il Papa di allora, che era Sisto IV, e Lorenzo il Magnifico. Poi ovviamente con la morte di Lorenzo il Magnifico nel 1492, le predicazioni di Savonarola, lo scenario sarà destinato nuovamente a cambiare. Quindi questo percorso sicuramente è interessante ed è affascinante perché ci sono sempre cose nuove da scoprire e la cosa fondamentale poi sarà il nuovo ruolo di Roma con appunto il ritorno dei papi da Vignone, con il trasferimento dei papi nella sede pontificia, quindi avranno inizio tutti quei capolavori dell'arte. Ecco, nelle prossime lezioni invece noi affronteremo un nuovo percorso che a partire da Michelangelo Buonarroti ci porterà fino al Seicento, fino a Caravaggio. Quindi seguiteci perché il programma è veramente vasto, quindi cercheremo di esaminare i capolavori più importanti. Ecco, per oggi è tutto, vi ringrazio e cerchiamo ancora di continuare con le nostre lezioni. Grazie!